Grande successo per gli eventi di Casa Tennis, che in occasione delle NITO ATP Final, Regione Piemonte, Città e Camera di Commercio di Torino hanno allestito Palazzo Madama in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e Fondazione per la Cultura Torino. I numeri parlano chiaro, i 42 incontri con 130 relatori tra artisti, sportivi, giornalisti e testimonial hanno spesso registrato il tutto esaurito. Tutto esaurito è liste d'attesa anche per le 46 degustazioni di prodotti dell'eccellenza enogastronomica del territorio e le 16 visite guidate in città. Le vie centrali di Torino poi sono state animate da una fittissima programmazione con alcuni degli artisti più noti del panorama internazionale. I turisti giunti in Piemonte per seguire la competizione sono stati per il 60% italiani e il 40% stranieri, risultati positivi anche sui social, dove i canali dei tre enti hanno registrato oltre 900.000 interazioni. Il bilancio della manifestazione è stato illustrato proprio nella cornice di Palazzo Madama dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal Sindaco di Torino Stefano Lorusso e dal Presidente di Camera di Commercio Dario Gallina. È un giudizio estremamente positivo come sempre quando le cose si fanno insieme, Federazione, Comune di Torino, Regione Piemonte e soprattutto ci miglioriamo ogni anno. Non dimentichiamo che questa è la prima vera edizione dove possiamo dire il Covid ce lo siamo lasciati alle spalle. Abbiamo mantenuto la sicurezza degli eventi ma siamo cresciuti, la città, la regione ne hanno approfittato positivamente meglio rispetto al passato e continuiamo a crescere. Questa è anche una prova di come sia stato giusto investire sulla pluriennalità dell'evento perché ci permette ogni volta di migliorarci e così faremo anche l'anno prossimo. Gli eventi tirano eventi e soprattutto questo non è solo un riconoscimento al fare sport che è anche importante perché mensana incorpore sano, ma è anche un investimento perché le risorse che noi investiamo ritornano. Chi c'era ieri al palazzetto, chi c'era ieri in città sono persone che hanno mangiato nei ristoranti, comprato nei negozi, dormito negli alberghi e persone che magari hanno conosciuto il Piemonte proprio perché c'erano le ATP di tennis e torneranno nella nostra regione. Questo è lo spirito con cui lavoriamo, sempre insieme perché le cose buone si fanno insieme.